Eletta la nuova presidente della Federazione Italiana Donne Arti Professioni d'Affari, la FIDAPA di Rossano, per il Biennio Sociale 2023-2025, la neopresidente Linda Fazio ha enfatizzato la necessità di promuovere la sinergia tra le FIDAPINE, puntando a rafforzare i legami con la struttura di Gorigliano per consolidare l'integrazione tra le due ex città. Quelle che si ritengono culture diverse c'è da lavorare tanto o poco? Un poco c'è da lavorare, un poco c'è da lavorare. La visione della nuova leadership si concentra sulla collaborazione con altre associazioni, sull'attenzione al territorio e sulla promozione dell'imprenditoria femminile. Noi ci occuperemo di salute e prevenzione, di arte e cultura, di attività culturali anche di attività culturali di vario genere e poi anche imprenditoria femminile e anche lavorare poi sulla violenza. La presidente uscente Stefania Rossi ha inseminato il bilancio positivo del suo mandato biennale. Ho cercato di puntare su alcuni temi a me cari, la salute di genere, quindi la prevenzione, prevenzione oncologica, tumore al seno, le malattie cardiocircolatorie che colpiscono in particolare le donne, valorizzazione del territorio, i tesori da scoprire, guardarsi un po' intorno, le stesse comunità orvraesche che abbiamo visitato. La FIDAPA di Rossano si prepara ad un futuro improntato alla collaborazione, all'inclusività e alla promozione del benessere delle donne nella comunità locale.